Sì, Mario, io mi associo ovviamente a quello che hanno detto gli ospiti qui vicino a me, ovviamente mi ha colpito particolarmente perché è quasi coetaneo mio, coetaneo nostro, quindi non posso altro che fare gli aguri e soprattutto essere su col morale, perché ovviamente chi è su col morale nelle malattie ha sempre un'arma in più rispetto a chi ovviamente si abbatte. E' la forza, io ripeto, non lo conosco. Il calcio, tipo sull'Inter, scherziamo su Facebook, sono onorato di essere gli amici, questa è la forza, ha un grande carattere, ha una sorella, figli, meraviglioso, una famiglia, tanti amici, questa è la forza, questa è la casa, non è solo, è una battaglia grandissima, che fa paura solo questa parola, nominare questa malattia, ma la va nominata e la paura va affrontata e combattuta. Mario, ripeto, io non lo conosco, faccio i miei più calorosi auguri e ripeto, soprattutto bisogna affrontare la malattia nel modo più agguerrito è possibile, non bisogna farsi buttare giù, ovviamente è difficile, però queste sono le mie parole e gli faccio un grande, grande, grande in bucca al lupo.